Salvo, un argomento già affrontato con un altro tuo collega in seguito alle dichiarazioni del ministro Spadafora, chat del calcetto che non smettono di suonare e ragazzi che scalpitano per tornare in campo. Sì, vero, buongiorno, già circa 110 giorni che siamo chiusi e 110 giorni che riceviamo messaggi sulla chat dai nostri clienti, i nostri amici che ci continuano a dire quando si riapre, quando si riapre, facci giocare, quindi noi non sappiamo più come rispondere alle persone, perché si diceva circa un mese fa che si doveva riaprire i primi di maggio, è finito maggio, ora siamo a giugno e ancora non c'è nessuna certezza, come avete sentito dai social su Facebook che gira questa voce che in Abruzzo il presidente dell'Abruzzo ha dato il libera a tutti sulle partite amatoriale con delle regole molto, che dire, se uno gioca a calcio capisce che non è più il calcio quello. Salvo le disposizioni del presidente dell'Abruzzo lasciano un attimo riflettere sulle modalità di gioco del calcio a 5, come hai detto tu sono delle modalità discutibili perché chiaramente evitare i contatti fisici in questa disciplina risulta chiaramente impossibile, forse è questo il senso della vostra posizione in merito al calcio tennis, l'intento è proprio quello di annullare il contatto fisico momentaneamente in questa fase di sperimentazione, stiate cercando tuttavia di allinearvi ad altri gestori del palermitano che già da tempo stanno sperimentando questa nuova disciplina. Sì, è vero, noi da lunedì abbiamo fatto, dopo aver fatto sanificazione, ho avuto l'impianto, comprato tutti i detergenti, abbiamo posizionato disinfettanti ovunque, entrati e uscita dell'impianto, da lunedì cominciamo sia con l'individual dei bambini e la scuola calcio che ha tre mesi che sono fermi e vogliamo provare a cominciare anche con calcio tennis, perché le persone dicono Salvo, vogliamo un'ora di svago la sera, il pomeriggio, ci manca questo, quindi stiamo provando questo, già abbiamo delle persone che ci hanno chiamato e ci hanno provato il campo, però io spero sempre che prima di lunedì arrivi il nuovo decreto che ci fa aprire al gioco, speriamo. Ecco appunto, quali saranno le disposizioni che l'utenza dovrà osservare una volta arrivati nel tuo centro sportivo? Allora, le disposizioni sono, intanto io non voglio che si usano gli spogliatoi, così eliminiamo questa parte di struttura, arrivano con la mascherina, prima di entrare in campo ci saranno dei detergenti per le mani, dentro il campo entreranno con la mascherina, quando saranno in posizione dei campi si toglieranno la mascherina, le quattro persone si giocheranno due contro due, ora andiamo a vedere come ho sistemato i campi con le giuste dimensioni del calcio tennis e con gli spazi, ognuno ha i suoi spazi per giocare, non ci sarà assolutamente contatto, proviamo a ripartire. Ecco appunto, Salvo, quante postazioni possono essere installate all'interno di un rettangolo di gioco da calcio a 5? E allora, dal regolamento dentro un campo di calcio a 5 che è circa 800-900 metri quadri, ci verrebbero 6-7 postazioni, ma noi abbiamo preferito fare due postazioni a campo, così hanno tantissimo spazio e penso che non ci sia assolutamente contatto fra le due squadre che giochino. Un altro discorso molto importante è che vogliamo aprire, vogliamo che qualcuno si prenda la responsabilità di farci aprire con tutte le regole e perché noi sappiamo e vediamo che ci sono un sacco di ragazzi, anche ragazzi 17-18 anni che vanno a giocare in questi campi abbandonati, un esempio faccio io all'ingrazia, qui all'ospedale abbiamo un campo a 11 abbandonato e si organizzano partite ogni pomeriggio fra ragazzi, quindi non vogliamo che noi togliamo queste persone, li portiamo in un ambiente più sano con tutte le regole che ci pone il governo.